Musica Mestre, Venezia, Murano, Isola di San Servolo Sono i quattro punti che abbiamo segnato sulla nostra mappa per raccontarvi la trasferta di Grazie Rottore e la salute per davvero in Laguna Siamo saliti fin qui, ben ritrovati amiche e amici, per raccontarvi non il dorato e patinato mondo del cinema come accade qui spesso nel mese di settembre ma per raccontarvi come in un film la storia dei giovanissimi protagonisti malati di rene policistico una malattia rara che affligge in modo particolare i bimbi anche prima della loro nascita e lo faremo con i diretti protagonisti che vi posso garantire hanno tanto da insegnare anche a chi come me si occupa di salute narrativa Siete pronti? Allacciate le cinture a bordo perché ce n'è bisogno, il mare è mosso ma sappiate che ne uscirete diversi Ogni vita lascia un segno come sulla neve una slitta come una carta d'isa alla cassa che slitta la vita è unica come la torre per Pisa come lo spartito scrivo per Elisa e se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie o come un fuorilegge senza le pistole sarei come uno storico senza storie E' pur sempre bellissima un'emozione con le cadute e tutto il male Partiamo dall'ABC, Doc ci spieghi cos'è questo rene policistico Il rene policistico è una malattia fondamentalmente del rene che ha una base genetica Può essere di due tipi, c'è un tipo che si chiama autosomico dominante ovvero il rene policistico cosiddetto dell'adulto perché le manifestazioni di questa alterazione si rendono concrete più avanti nell'età di solito, nell'età adulta mentre c'è il rene policistico autosomico recessivo, detto in maniera medica che in realtà si chiama di tipo pediatrico, di tipo infantile perché può dare manifestazioni anche gravi già dalla nascita Solitamente nel primo caso c'è un genitore a feto che ha trasmesso la mutazione nell'altro caso i genitori solitamente sono portatori entrambi quindi sani e hanno una possibilità su quattro di trasmettere entrambi questa potenzialità nel feto che avendo due mutazioni poi sviluppa le manifestazioni cliniche Il mondo crolla addosso perché al momento in cui ti diagnosi con una patologia che fino a un'ora prima non ne sapevi proprio neanche l'esistenza dici oddio che è successo a me, perché, che cos'è Il primo periodo è chiaramente stato molto duro perché non si riusciva a capire bene qual era, fosse il futuro, come provo a affrontare il futuro Noi siamo arrivati a un punto che eravamo praticamente dei fantasmi a casa non avevamo più forza fino a che, non so, è scattata una scintilla, è scattata una cosa e abbiamo detto, vabbè, noi non possiamo vivere una vita così La Rete del Mare è una rete di associazioni ONLUS che operano per sostenere i reparti di nefrologia pediatrica in tutta Italia non tutti gli ospedali d'Italia, ovviamente ma le nefrologie pediatriche più importanti parliamo di Roma, parliamo di Padova, parliamo di Milano, parliamo di Genova per cui siamo veramente orgogliosi, assieme alle associazioni di essere riusciti, è una cosa appena nata ma di essere riusciti a fare questa rete e abbiamo tantissimi progetti È fondamentale il ruolo dei genitori che debbano capire bene, ma ancora di più delle associazioni come l'ARP che è straordinaria, secondo me, in questo senso perché dove il medico non può, dove il medico non riesce a accogliere magari vorrebbe e cerca di farlo ma il genitore a un certo punto arriva a mettere un muro perché comunque dall'altra parte c'è, tra virgolette, la scienza da questa parte c'è l'umanità quindi anche se chi è dall'altra parte cerca di essere il più umano possibile nessuno ti può capire meglio come un altro che ha lo stesso problema Benvenuti alla Scuola del Vetro a Battezzanetti Speriamo che oggi vi divertiate vedrete la lavorazione del vetro artistico di Murano AIRP si sente parte di tutte le associazioni di pazienti e delle nefrologie perché il rene policistico è presente in tutte le città cioè il rene policistico è una malattia rara ma comunque è presente più o meno in tutta Italia quindi riuscire oggi a radunare i nostri bambini che hanno una malattia rara o rarissima che è il rene policistico otosomico recessivo per noi è una cosa fantastica oggi è una giornata veramente magica 3,2,1 Ciao, io mi chiamo Ragna Io mi chiamo Giuseppe Io mi chiamo Ryan Dove siamo oggi? A Murano A fare che? Un'intervista Ma abbiamo visto anche? Il vetro Che abbiamo fatto? Due laboratori con il vetro Che cos'è il rene? È un organo che è vicino alla vescica E sapete cosa serve il rene? Serve ai testicoli... aspetta... Il rene serve a far filtrare il sangue e far fuoriuscire gli escrementi, cioè la PV Si può sorridere anche con una malattia rara? Si Perché nonostante le malattie che abbiamo dobbiamo pensare al positivo e rimanere sempre felici finché tutto ciò accade normalmente e veniamo tutti curati e alla fine possiamo tutti fare tutto ciò che fanno tutti gli altri bambini normali che non hanno problemi La felicità è quando non ci danno compiti a scuola e vado e mi diverto in casa, guardo la tv O andiamo da qualche parte Oppure andiamo in gita Quando faccio qualche esperienza Hai girato il mondo dentro il cuore Camminando hai cercato le parole per un giorno E devi dire grazie a te Devi dire grazie a te Devi dire grazie a te È stata una cosa improvvisa che ci ha davvero catapultato nell'ospedale di Padova, nefrologia pediatrica Io dico sempre con mio marito diciamo che i reni li abbiamo scoperti quando si sono malati quelli di nostro figlio E mi sono trovata in un mondo nuovo, un mondo che non conoscevo e sentivo queste mamme attorno a me che parlavano di numeri Dicevo ma sono medici, sono... poi ho imparato negli anni che davvero si diventa un po' medici, psicologi, facciamo un po' di tutto per i nostri figli E quei numeri sono stati i numeri che mi hanno accompagnato in tutti gli otto anni della vita della malattia di mio figlio Tu sai che la funzionalità renale deve avere un valore che si chiama la creatinina che deve essere a quel livello E quando comincia a lievitare tu capisci che stai per arrivare Per noi è stata la dialisi e quindi un altro cambiamento della vita di mio figlio è anche nostra Di fatto ad oggi una cura non c'è Sì, questo fortunatamente è vero in parte Dico fortunatamente perché adesso, soprattutto nel tipo adulto, nell'autosomico dominante Sta venendo fuori qualcosa e qualcosa anche di concreto Perché ci sono studi su una molecola in particolare Che hanno già dato un ottimo risultato nei pazienti adulti E che adesso cominciamo, bisognerebbe dire sperimentare Ma io non voglio usare questo termine perché in realtà è una vera possibilità Di inserire in un protocollo di trattamento, non di sperimentazione Perché è un farmaco che già si conosce da tanto tempo Dei pazienti che hanno, nonostante il tipo adulto Quindi che avrebbero delle manifestazioni più eclatanti più avanti Ce l'hanno già molto prima Nell'altro caso, quello dell'autosomico recessivo Quindi del tipo infantile Purtroppo ancora non abbiamo individuato una possibile fonte di trattamento Per cui purtroppo in questo filone noi continuiamo a cercare di sostenere A dare dei sussidi terapeutici Che fanno solo modo di vicariare una funzione del rene Che pian piano, più o meno velocemente si va spegnendo Avevo paura di parlargli tanto della sua malattia Perché non riuscivo a capire la sua maturità Un giorno ho fatto un bellissimo incontro in un ricovero Che erano abbastanza frequenti per una ricaduta della sua malattia Eravamo ricoverati con un ragazzo di Napoli Ricordo ancora il nome Umberto E mi disse Mamma, io ho capito che cosa ho Io lo guardai impaurita perché non sapevo cosa mi stesse dicendo Lui mi disse, mamma, farò la dialisi, avrò un trapianto Ma dove stanno i problemi? Io da quel giorno ho cominciato davvero a volare con lui Poi per andare avanti ci siamo resi conto con Luisa Che serviva anche altre cose Fare gruppo, stare insieme E grazie alla rete delle malattie renali in età pediatrica Ormai sono già quattro anni che si organizzano queste gite, questi eventi E devo dire che ogni anno sempre più c'è una risposta da parte di tutti i familiari Di tutte le famiglie a partecipare E è una soddisfazione grandissima vedere i bambini Che ormai si conoscono come se fossero amici di una vita Noi siamo andati a chiedere che il re neplicistico-tossomico dominante Rientrasse nei LEA perché ancora non era riconosciuta come malattia E negli ultimi approvazioni è stata e rientrata nei LEA E abbiamo chiesto che invece la forma recessiva rientrasse tra le malattie rare E oggi il re neplicistico è tra le malattie rare Noi siamo fortunati che siamo seguiti da nefrologi in Italia proprio In tutte le strutture proprio di eccellenza E quindi grazie un po' diciamo a tutta la nefrologia italiana All'Asin, Sinepe Grazie dottore! Grazie dottore, il racconto delle storie vere dei pazienti Me ne dice una che negli ultimi tempi le ha lasciato una traccia nella testa e nel cuore? Beh, una di recente che è successa Ero in una consulenza prima della nascita per un grave re neplicistico I genitori erano venuti perché volevano decidere se continuare o meno la gravidanza E' una situazione molto grave E secondo me il nostro ruolo non è quello di dare un consiglio Secondo me in questo caso perché una decisione è troppo delicata E fornire gli elementi il più oggettivi possibili per dargli loro la loro soluzione Perché dopo dieci anni loro dovranno essere in pace con loro stessi per quella soluzione Ecco, mi ha colpito particolarmente perché dopo che io ho parlato La mamma si è girata verso il papà E le ha chiesto cosa facciamo con E ha detto il nome del feto Che era il nome di mia figlia E questa cosa devo dire mi ha colpito per pochi secondi Perché uno deve sempre cercare di stare Però siamo esseri umani Quindi è quello Sua figlia si chiama? Bianca Come ti immagini la vita di Marco in età matura? Allora, la vita di Marco la vedo, se vedo qui pazienti adulti Li vedo come loro Oggi abbiamo una persona presente di 52 anni Certo è un caso, però già vedere già 16, 18 età Vederli così è bene Poi è chiaro, se ci sarà necessità di affrontare Per vederli bene anche un eventuale trapianto Li vediamo rosei perché poi la ricerca da qui a 10-15 anni andrà sicuramente avanti Una parola sola, daglie E' un grido che tu si è, meglio è E' mio amore e il tuo amore